La dignità non consiste nel possedere onore ma nella dignità di meritarli, così diceva Aristotele. Il concetto di dignità è nato nella Grecia antica, nella Grecia classica, e rappresenta proprio questo incontro tra logos divino e logos umano, ad affermare che l'identità umana ha un valore a prescindere dall'appartenenza a un dato ceto sociale o di genere. Per questo ho deciso di rappresentare due persone, un uomo e una donna, in vesti classiche, che vengono portati sul palmo della mano, esattamente alla stessa altezza perché entrambe hanno la stessa importanza. I personaggi poi tengono in mano una stella. La stella rappresenta il valore dell'orientamento, cioè la dignità dovrebbe orientare ogni scelta ed essere il valore fondante della giustizia, della pace e della libertà nel mondo. Grazie.